ehm tu guarda mi hai conosciuto l'ultima volta aspetta è successa una cosa non so cosa è successo è successo qualcosa di mistico ma non so la missione Wubat vedi ma per colpa di me non l'ho proprio fatta dai facciamo il segno di questa missione cosa è successo che è che c'è va bene